E' il trentasettesimo del secondo tempo, piovono fumogeni sulla porta a difesa da Nacoura, il Teramo sta vincendo 1-0 e questa è la reazione arrabbiata, a dir poco, di tifosi della curva nord dell'Ancona, esasperati da una stagione tragica per i tanti aspetti extracampo che sono stati costretti a vivere e per quell'ultimo posto che oggi, e tra poco avrà anche il supporto della matematica, significa retrocessione in serie D. Non può essere altrimenti un punto in 12 partite giocate nel 2017, non a sconfitta interna del campionato, 7 punti dal fano penultimo. Ad avvicinare i Dorici all'inferno ci ha pensato Barbuti al trentaduesimo della ripresa, un lampo in mezzo al nulla cosmico di una partita tra due squadre che hanno legittimato le rispettive posizioni di classifica. Al Teramo basta e avanza per collare ancora i sogni in salvezza, dopo un'ora giocata al piccolo trotto per non prenderle, accontentandosi anche di un pareggio fuori casa. L'Ancona, dal canto suo, ha fatto qualcosa di più. Al quattordicesimo del primo tempo punizione velenosa di Voltan che da sinistra calcia direttamente in porta trovando i pugni serrati di Narciso a respingere. La formazione di Ugolotti si fa vedere con un tentativo di incursione di Di Paolo Antonio che Ricci sbroglia in qualche modo. La rabbia sale in casa Ancona a meno due dall'intervallo quando Frediani in tuffo indirizza verso la porta avversaria un cross deviato di Daffara ma sul capocannoniere d'Orico c'è l'evidente fallo di Sales che solo il direttore di gara pare non vedere. Un torto bell'e buono che però non può essere sufficiente a giustificare la sconfitta finale anche perché nella ripresa continua a succedere sempre molto poco. Al decimo tiro con poche pretese di Voltan. Al ventiseiesimo una sua punizione è spizzata da Caccioli ma la palla finisce a fondo campo. Due minuti dopo ancora Voltan innesca la ripartenza bianco-rossa conclusa con un diagonale debole di Frediani bloccato a terra da Narciso. Al trentaduesimo il gol partita di Barbuti che fulmina Nacoura e l'Ancona e che dà anche là alla protesta della curva nord, fumo colorato di bianco-rosso in una notte fonda e scurissima.